La Regione Campania ha approvato il progetto Java Campania, innovazione e formazione digitale. Il progetto consiste nel finanziamento, tramite il Fondo Sociale Europeo, di corsi di formazione per l'ottenimento della qualifica di programmatore Java e rappresenta un'occasione per accedere al mondo del lavoro specializzandosi in una delle tecnologie informatiche di riferimento per le imprese. Il corso, la cui partecipazione è completamente gratuita, è rivolto a giovani e adulti non occupati, in possesso di diploma o laureati, con forte interesse ed entusiasmo per le nuove tecnologie e attitudini al lavoro di gruppo, con una buona conoscenza dell'informatica di base e della lingua inglese tecnica. Non sarà finanziata solo la formazione, spiega l'assessore Marciani, che in ogni modo rappresenta un elemento importante e altamente qualificante per i nostri giovani, ma si vuole premiare anche l'impegno e i risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi. È prevista infatti una dote di 5.000 euro per i primi 50 classificati, al test di certificazione, ed un contributo di 3.500 euro per i successivi 50 classificati, utile allo svolgimento dei tirocini in imprese della Campania. I giovani formati sosterranno a fine corso l'esame di certificazione ufficiale di Oracle University.